Mi hanno sempre affascinato nei campi di girasole questi fenomeni qui, quelli che osano svettare al di sopra. Non fanno un girasole, ma le fanno di più. È praticamente una pianta che per qualche mutazione, così, decide di svettare sopra le altre. Vedete? E di fare non un girasole, ma in questo caso ne ha fatti 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, che c'erano anche di là. Ha fatto 9 piccoli girasoli. Questo per l'agricoltura non è un bene, perché il girasole deve essere bello, uno, grande, in modo che passa la macchina, tac, vedete, con tutti i bei semini grossi, quello lì probabilmente farà meno semi. Ma è questo il bello della vita, no? Avere il coraggio di essere un girasole che svetta e fa 7, 8, 9, 25 girasoli da una sola pianta. Non un girasole grande, ma tanti piccoli girasolini che spuntano in maniera imprevedibile qua e là. Cerchiamo di essere noi stessi, di essere girasoli, perché non siamo soli. Sì, loro sono tutti uguali, ma anche lì ce n'è uno che svetta. Non so se si vede. Eccolo lì. Eccolo qui. Il girasole che svetta. E lui si parla con quest'altro. Si vedono. La massa non vede nulla. Guarda. Tutti girati verso la stessa parte. Quelli che svettano, no? Quelli che svettano hanno diversi girasole, girati in tutte le direzioni. Anche questa è una cosa interessante, eh? E così è. Questa è la metafora che mi è venuta in mente. Buona domenica da Insorto Contadino. Ciao. Allora Grazie a tutti